Intro Benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati da una serie Qualcosa contro qualcosa in Minecraft Quindi prima però di iniziare col video Vi invito a scrivermi Cosa fare contro qualcos'altro Utilizzando dei comandi e tutto Noi lo faremo In questo caso un caro fan Alexander se non sbaglio Non vorrei sbagliarmi Ha detto Ender dragon infatti siamo nell'ende Con una spada con una filiatezza 1000 vediamo un po' Quanto danno può fare Quindi direi di tornare e andare in gioco Prima però c'è un bel pollice su iscrivetevi qua sotto Sul posto di un rossetto e attivate la campanellina Così vi arrivo nei video E niente commentate su cosa voi vorreste vedere E voglio almeno 10 like Visto che li abbiamo raggiunti Per un prossimo episodio Tanto qua ci sono già i mostri pieni di mostri Abbastanza cattivi Detto ciò Noi direi di darci pure il comandino Che lo prendo subito Coppia Ho fatto un po' di rifornimento C'ho un'armatura Coppia Aspetta Sbagliata Trovi Ok Questo caso ha detto di potenza 1000 Subito di potenza 1000 Andiamo di cattiveria subito 1000 Secondo me l'ho shot in un colpo solo Perciò prima proviamo 50 e dopo proviamo 1000 50 Boom Non è la minecraft world Perché ha fatto un piccolo fail Allora ragazzi il comando è questo qui Avevo sbagliato io che bisogna giustamente definire qual era Direi di provarlo con 50 Con sharpness di livello 50 Perché l'id di sharpness è 16 Ci proviamo E guardate un po' Tracchete Affilamento Affilatezza Scusatemi Livello 50 Mi sono armamentato di un po' di un'armatura Leggera Leggera E direi di andare Andiamo Ci siamo Nell'end Allora qua c'è il drago è tutto Allora pa 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 Ok siamo qua dentro Direi di mangi Non posso mangiare la mela d'oro Ocio ocio Direi di trasformarci Almeno che non vogliamo andare subito alla ricerca di adesso Ad ammazzarlo Ma sapete una cosa Direi che per fare molto easy Per se no dobbiamo aspettare che lui attacca Direi di Colpirlo adesso Ci proviamo Un drago Con Contro Una spada Con affilatezza 50 Lo riusciremo ad ammazzare Se riesco a prenderlo Se riesco a prenderlo Il problema è se riuscisco a prenderlo Se riesco Non gli ho tolto niente Con affilatezza 50 Raga Ok Perché vi faccio rivedere Affilatezza 50 Non gli ho tolto Praticamente Niente Vieni qua giovane Vieni qua giovane Ho bisogno Della tua potenza Dai 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 Non gli ho tolto niente Affilatezza 50 Non gli ho tolto niente Quindi direi di buttarla E di darci Proviamo A parte che era a livello 65 Quindi non serve a niente Proviamo a livello 1000 Se già Riesco a fare qualcosa Affilatezza diamante con livello 1000 Spendiamante con affilatezza livello 1000 Vi proviamo Tanto c'è caricato Giustamente Uno sconto D'armi pari Non è vero Però è bello farlo così Magari riuscite a prenderlo Magari riuscite a prenderlo Vieni qua giovane A giovane Non riesco a prenderlo Perché dovevo rincorrerlo A cuccio E che è Allora Non me lo prendeva Non me lo prendeva A giovane A giovane A giovane Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua A bello A bello De papi Vieni qui Ti puoi Stai fermo Porca vacca Ti va Ti va di culo Ti va Allora raga Sto qua non mi piace Amico mio Cerca di Oh non me lo prende Cerca di collaborare Non me lo prende Ok l'ho preso Non gli ho fatto niente Cioè io ho tolto Un quarto di vita Proviamo allora Con affidatezza Questa qua la buttiamo Proviamo 5000 Proviamo a fare 5000 Proviamo a fare Sempre 5 Parca vacca 5000 Boom Affidatezza 5000 5000 Dani per colpo 2000 Boh In teoria dovrebbe morire In teoria In teoria Non muore Con 5000 L'ho shotto in un colpo solo Con 5000 L'ho shotto in un colpo solo E ora volevo riprovare Con un po' di meno Ma E' morto Vabbè ragazzuoli Con 5000 In un colpo solo Non credevo Io sottasse così Visto che Si in effetti Più o meno Vabbè Vabbè Speravo di arrivare Almeno a 10.000 Così almeno Vabbè ragazzuoli Per questo è il video tutto Spero vi sia piaciuto Lasciatevi nei commenti Cosa volete vedere Contro qualcosa Arriviamo a 10 like Per un prossimo episodio So che ci arriviamo Perché l'altro episodio L'ha raggiunti Quindi Spolliciate Lasciate un bel commentino Qua sotto nei commenti Iscrivetevi Su un commentino Se attivate la campanellina Così non vi arrivano I video Cioè vi arrivano i video E nulla Condividetemi su Facebook Instagram Twitter Whatsapp Ovunque Condividetemi ovunque E seguitemi anche su Facebook Instagram E a breve Aprirò anche un gruppo Telegram Giusto così In amicizia Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti